ecco il magico ferro alla maraton milano dopo che sono partiti tutti perché mi volevano uccidere sto andando col mio monociclo con il mini one no scusatemi con il mini segue e come ultimo concorrente sto cercando di recuperare tutti ci siamo fatti prima la maratona piccola per far felici bambini poi finita la maratona piccola ci stiamo buttando nel percorso di qua signora li raggiungo che svantaggio gli stanno dando l'indicazione per recuperare la fine del gruppo magico ferro grande mini segue cazzo 16 all'ora già comincia a bippare manteniamoci su 14 ragazzi spettacolare sto andando per milano una dividine pazzesca ma vediamo facciamo test long run a batteria chiaramente non vi faccio un'ora e mezza di video due ore di video perché sennò mi va a dare via le chiappe lo riprenderemo a tappe ma comunque veramente una figata cioè c'ho tutta la milano ferma con tutta l'agenda in semafori che mi dice dove andare io sto andando bello e tranquillo speriamo che non mi ammazzi perché ragazzi c'è anche questa possibilità comunque stiamo andando siamo sicuri che entro cinque minuti prenderemo gli ultimi e adesso stiamo arrivando in siamo in vale maino e praticamente cinque giornate adesso stiamo andando ci facciamo dire dov'è il percorso della stramilano dai ragazzi vediamo un po eccoci qua salve ragazzi il percorso vado vado che riprendo duro duro e ci stiamo infilando però guardate bella come guarda come cammina bellina lei mi ha guardato ha detto maestro maestro maio duro non mollo cazzo è bellissimo ragazzi ma voi non avete idea della calca di persone che c'era veramente una cosa incredibile spettacolare dove dicono milano brutta milano brutta signori c'è convalazione esterna costell'esterno la media comunque via le bianca maria io non sto guardando per terra da due chilometri non c'è neanche un buco cioè un sogno sto girando milano conseguo i mini problemi in zero mi hanno detto dalla produzione che il video era preferibile averli orizzontali allora ci stiamo upgradando ciao caro a fare i video orizzontali l'unico problema che la pateletta del telefono praticamente vado alla cerca ma teniamo duro comunque ragazzi spettacolare c'è una cosa molto bella della segue mini è che c'è della gomma siliconica sotto i piedi quindi oltre al cuscinetto dei piedi c'è anche un ulteriore cuscinetto c'è uno con la macchina che è entrato tremendo su ma noi proseguiamo non so se con i mini è dura con i guanni diciamo che dovremmo già raggiungere ecco 1